Sono Ciro Imparato, autore del libro La tua voce può cambiarti la vita e volevo lanciare un appello a tutti i politici che in questo momento sono in campagna elettorale, siamo al 12 marzo 2010, lancio questo appello in quanto il mio lavoro è anche quello di curare l'immagine di alcuni politici e quindi fare in modo che la loro comunicazione sia migliore. Ecco, quello che noi italiani desideriamo è autenticità, lo so per certo perché tutti lo sanno per certo, basta parlare con gli amici, basta andare nei bar, basta leggere i giornali, basta leggere i blog su internet, basta andare su Facebook, insomma tutti quanti desideriamo avere qualche cosa di reale in cui credere, qualcosa di autentico e vi posso dire da esperto della comunicazione e della voce, l'autenticità è una cosa che non puoi andare a cercare, puoi soltanto cercare di abbandonarti a quello che sei e nell'abbandonarti ai tuoi veri sentimenti, al tuo vero cuore, a quello che hai dentro, alla spontaneità, a questo senso di bellezza interiore che tutti quanti noi abbiamo, caro politico, cari politici potrete riuscire finalmente a bucare il nostro cuore, ma diversamente è molto difficile, cercate di non parlare più in politichese, cercate di non dire frasi come la dialettica degli ultimi anni ci ha portati ad avere una considerazione per la quale tutti noi ci sentiamo in diritto di, cari politici, non significa niente, sono parole vuote, non vogliamo più ascoltare parole così, vogliamo sentire persone reali che parlano con autenticità, spero, mi auguro che in queste elezioni amministrative venga fuori la forza, il cuore reale delle persone, abbiamo bisogno di persone autentiche, l'Italia ha bisogno di persone autentiche. Buona campagna elettorale a tutti.